Pochi intimi, poco più di venti, ad accogliere Roberto Giacchetti, il candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, in tandem con Anna Scani. Nella sezione di Via Taranto, il leader romano ha parlato del futuro del PD, delle leggi truffa del governo gialloverde e del rilancio dei democratici, dopo la batosta elettorale del 4 marzo scorso. Il tutto nelle ore in cui i grillini, che a sud hanno spazzato via il Partito Democratico, hanno varato il reddito di cittadinanza, una delle misure più attese nel mezzogiorno, e che, secondo il governatore Emiliano, avrebbero dovuto portare l'etichetta del centro-sinistra e non dei populisti. Purtroppo il PD non ha sfondato al sud e neanche al nord. Non si riparte certo da provvedimenti truffa come il reddito di cittadinanza, che partiva con una platea enorme e finisce con pochi spiccioli, che peraltro bisognerà vedere se vengono dati. Il partito si rilancia semplicemente compiendo fino in fondo un progetto che è rimasto a metà. Questa candidatura differisce dalle altre tre per tre ragioni. La prima perché noi non pensiamo che dobbiamo cancellare o vergognarci di quello che abbiamo fatto, ma anzi pensiamo che da quello si deve ripartire per andare avanti. La seconda è perché noi escludiamo qualunque tipo di accordo con i populisti. E la terza appunto perché noi pensiamo che il progetto originario del Partito Democratico debba essere mantenuto con i suoi valori fondamentali. Quali sono le prospettive su Foggia? Le prospettive su Foggia le vedremo tra cinque giorni. Se si riferisce alle primarie le vedremo tra cinque giorni. Io ho la sensazione che ovunque andiamo in Italia stiamo raccogliendo adesioni da tante persone che anche tra gli iscritti pensano che il progetto riformista messo in campo da Renzi e Gentiloni non vada messo dietro le spalle.